Che cos'è un genocidio? La definizione di genocidio noi l'abbiamo nella convenzione che è stata approvata il 9 dicembre del 1948 e che poi è presente adesso anche nello statuto della Corte Penale Internazionale. Il genocidio è l'intenzione di distruggere un gruppo etnico, religioso o nazionale in quanto tale. Non è la distruzione perché in quel momento si sta occupando un paese o si sta combattendo una guerra contro quel gruppo e quindi inevitabilmente in parte lo si distrugge. No, quando c'è la volontà di distruggere quel gruppo solo perché esiste, quindi al di fuori di qualsiasi altra motivazione di carattere politico, di potere, di aggressione, di conquista economica, territoriale e così via. Dopo il genocidio in Ruanda e a Strebrenica nell'ex Jugoslavia, lo stupro di massa è stato considerato un possibile strumento di genocidio e questo dal punto di vista del diritto è una novità enorme perché nelle prime due guerre mondiali questo non era minimamente accaduto. L'attacco del 7 ottobre di Hamas c'era un intento secondo legge genocidario? La violenza all'eccidio che si compie il 7 ottobre da parte dei militanti di Hamas nei confronti di cittadini israeliani, quelli che erano presenti nei kibbutz vicino al confine, quelli che erano presenti nel rave a cui partecipavano migliaia di giovani e di cui sicuramente i massacratori erano a conoscenza, credo che possa essere considerato un crimine contro l'umanità sicuramente, ma non un genocidio. È la volontà di compiere un massacro indiscriminato che colpisce chi ci si trova sotto con una programmazione sicuramente generale, ma senza la, mi sembra, volontà di compiere qualche cosa che andasse oltre a un massacro violento, dimostrativo, fatto per colpire improvvisamente e probabilmente anche per suscitare una reazione e così ridiventare in qualche modo vittime della violenza israeliana, come poi è in parte accaduto dopo la reazione del governo di Netanyahu con gli attacchi ripetuti a Gaza. La risposta di Israele, che ovviamente è una nazione in corso, però ha le caratteristiche che possono fare in qualche modo pensare a un genocidio e a livello anche di precedente storico. Cosa può significare la denuncia del Sudafrica? La denuncia del Sudafrica credo che rappresenti la volontà di portare al più presto possibile il governo di Israele di fronte alla giustizia internazionale. L'accusa di genocidio è l'accusa più grave, quindi è quella che in qualche modo smuove più rapidamente la possibilità di un giudizio, sia pure di tipo iniziale. Ricordiamo per esempio che dopo l'operazione Piombofuso che l'esercito israeliano aveva fatto a Gaza una commissione delle Nazioni Unite aveva individuato sia le azioni dell'esercito israeliano come quello di Hamas come crimini contro l'umanità. Però non c'era stata la giustizia internazionale nel senso della Corte Penale che era intervenuta su questo. Io credo che chiamare genocidio la reazione sicuramente sproporzionata in termini di diritto internazionale che l'esercito israeliano ha fatto e sta facendo a Gaza non possa essere considerato genocidio ma possa essere sicuramente considerato un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità perché l'attacco e il coinvolgimento di civili è assolutamente evidente da tutte le documentazioni che abbiamo. È vero che il termine genocidio ormai si usa in modo estremamente largo. Quasi sempre quando c'è una violenza di massa di cui si vuole particolarmente sottolineare la gravità si usa quel termine. Crimine di guerra e crimine contro l'umanità, qual è la differenza? I crimini di guerra sono elencati nelle convenzioni di Ginevra. Se si va a vedere lo statuto della Corte Penale internazionale sotto le fattispecie di crimini di guerra noi abbiamo decine e decine di atti che possono essere considerati crimini di guerra. Il bombardamento e la distruzione di ospedali, di scuole, di edifici religiosi, di culto il coinvolgimento di civili in uccisioni torture nei confronti di prigionieri uccisioni di prigionieri crimini contro l'umanità è quando le popolazioni civili sono maggiormente colpite in quanto tali non in quanto, possiamo dire, vittime secondarie di azioni militari ma invece sono colpite proprio perché ritenute in qualche modo parte di quel potere che si vuole colpire. lo stupro di massa è un crimine di guerra e crimine contro l'umanità e può essere anche considerato come un mezzo di genocidio e lo è stato nei casi del Ruanda per esempio in un paio di sentenze del Tribunale e questa è una delle novità più rilevanti del diritto internazionale se pensiamo che nelle prime due guerre mondiali centinaia di migliaia di stupri che ci sono stati erano considerati in qualche modo una inevitabile necessità o parte della guerra. Da questo punto di vista credo che per esempio l'azione di Hamas del 7 ottobre così come è stata raccontata in modo, devo dire, molto serio da quella lunga inchiesta che ha fatto il New York Times proprio sulla violenza nei confronti delle donne è stato un elemento di raccolta di prove che sarà significativo nei giudizi poi anche da parte della giustizia internazionale. Un'altra parola molto utilizzata per l'attacco di Hamas è pogrom. Che cos'è un pogrom? Secondo lei si è trattato di un pogrom in questo caso? Non mi sembra che sia stato un pogrom Pogrom erano quelle violenze semispontanee di massa accadute verso la fine dell'Ottocento in una serie di città della Russia e della Polonia nei confronti di comunità ebree locali in cui c'era la tolleranza e a volte anche la stessa sollecitazione delle forze dell'ordine, della forza di polizia o dei servizi segreti perché quelle violenze avessero luogo ma erano il frutto davvero di qualcosa di abbastanza spontaneo in risposta a, facciamo degli esempi, il ferimento accidentale da parte di ebrei di un bambino non ebreo la comunità ebraica veniva assalita molti venivano feriti o uccisi la sinagoga veniva bruciata, eccetera e quindi è in quel clima molto particolare che nasce il termine pogrom mi sembra che in questo caso il cuore di quell'azione non era una rivolta spontanea per qualcosa accaduto in quel momento mentre si può dire per esempio che, anche se in quel caso non c'erano stati poi massacri ma che le reazioni all'epoca dell'Intifada erano delle reazioni semispontanee che erano avvenute da parte di gruppi di giovani nei confronti di azioni di violenza dell'esercito israeliano quella era un tipo di violenza analoga in linea di principio a quella del pogrom si dice che a Israele e per i palestinesi c'era un regime di apartheid lei si è occupato nella sua vita tantissimo di apartheid sudatica che cosa vuol dire apartheid se è un uso improprio per quello che dicono i palestinesi apartheid appartiene alla storia del Sudafrica negli anni immediatamente dopo la seconda guerra mondiale cioè a una legislazione che tende a codificare concretizzare quella che era una politica razzista già esistente precedentemente e che significa una separazione netta e totale da tutti i punti di vista della popolazione nera che in quel caso era la popolazione di maggioranza con la popolazione bianca che era quella minoritaria e dominante però dal punto di vista del potere politico questo significava che i neri non potevano vivere nelle stesse parti della città dei bianchi tant'è vero che furono costruite tutte le township pensiamo a Soveto che era la più famosa distante dalle città bianche che nei mezzi di trasporto c'erano mezzi di trasporto per neri e per bianchi negli Stati Uniti ricordiamo che nello stesso mezzo di trasporto c'era una parte riservata ai bianchi e una parte ai neri e quindi se ricordiamo il caso di Rosa Parks che detta inizio alla lotta per i diritti civili nel 1954 nasceva da quello nell'apartheid sull'africano invece un nero non poteva salire in nessun mezzo di trasporto dei bianchi le piscine erano divise i bagni erano divisi quando c'era la necessità che i neri andassero a lavorare in zone dei bianchi avevano dei permessi e dei percorsi obbligatori quindi c'era veramente questa separazione una situazione voluta e completa che era anche forte da un punto di vista simbolico perché significava continuamente in ogni momento della vita dire ai neri voi siete discriminati voi siete qualcosa che contate meno che vale di meno ora mi sembra che sul giudizio che si può dare su l'occupazione o comunque le modalità della presenza o dell'oppressione dello Stato di Israele nei confronti della striscia di Gaza o in parte anche della Cisdorjani eccetera si possono dare giudizi molto diversi ma l'apartheid direi che assolutamente non esiste da una parte perché all'interno dello Stato di Israele per esempio i cittadini arabi e palestinesi israeliani hanno diritti di voto e diritti come gli altri cittadini quelli che vivono nei territori occupati hanno intanto un margine di auto-organizzazione che si può giudicare essere più o meno fittizio ma che comunque esiste se pensiamo a quanti palestinesi sono stati e sono curati negli ospedali israeliani per esempio se ci fosse una politica di apartheid questi non potrebbero entrare negli ospedali israeliani dovrebbero essere ospitati in ospedali appositi può esistere una parola per definire la condizione dei palestinesi oggi? sono forme di discriminazione di oppressione diversificate anche perché se andiamo a vedere nel corso degli ultimi 20-30 anni si sono modificate sono diverse da quando la striscia di Gaza era occupata militarmente dallo Stato di Israele cambia nel momento in cui lo Stato di Israele esce da Gaza e lascia l'autonomia nei primi anni c'è un'oppressione generale ma non c'è quel controllo che per esempio aumenterà molto di più dopo per esempio proprio l'operazione Piombofuso che era una reazione violenta a degli attacchi missilistici di Hamas e che però poi provoca questa struttura di contenimento oppressione della striscia nel suo insieme che prima era invece trattata in modo diverso io almeno non riesco a trovare una parola simbolo se non forme di oppressione di discriminazione che però andrebbero valutate ed elencate per quello che sono più che riassunte in un qualcosa che ha un significato poi molto diverso un'altra parola molto significante e precisa utilizzata è ghetto per descrivere il perimetro di Gaza che cos'è un ghetto e se si può parlare di ghetto riferendosi a Gaza i ghetti hanno una storia molto precisa è un modo per cercare e riuscire anche a dare un'idea emotiva forte di una condizione che sicuramente è una condizione spesso analoga a quella di un ghetto nel senso che non è facile o impossibile per la gran parte dei palestinesi uscire quando vogliono però la struttura del ghetto così come esisteva mi sembra che fosse una cosa molto diversa e che quindi il rischio è proprio di non far capire la diversità che c'è di una struttura di oppressione che pure è presente oggi rispetto a delle strutture di oppressione che erano presenti nel passato del resto il ghetto di Varsavia o di Ucce nella seconda guerra mondiale erano diversi dal ghetto di Venezia nel 1400 quindi anche lì il nome era era simile ma soprattutto perché era nata per rinchiudere gli ebrei ora se noi lo usiamo in un'altra accezione per una situazione molto diversa è solo credo per appunto richiamare di nuovo questa possibilità di ribaltamento di vittime della storia gli ebrei nel cominciare a diventare invece carnefici a loro stesso usando le stesse forme di oppressione di cui erano state vittime e questo è qualcosa che distorce la verità storica innanzitutto ma anche la comprensione della storia Genocidio culturale non è mai entrato nella convenzione ad esempio per quanto riguarda la situazione dell'Ucraina si parla di l'intenzione di genocidio culturale da parte della Russia nell'ambito di un attacco molto violento dove ci sono stati anche crimini contro l'umanità secondo lei ha senso parlare oggi quando si studiano questi fenomeni di genocidio culturale detto che questa retinzione non fa parte della convenzione l'idea che aveva Lemkin di genocidio culturale era un'idea molto ampia e non particolarmente specificata poi tanto è vero che nella discussione che portò a non inserire il genocidio culturale nella convenzione del 48 oltre alla motivazione di fondo che grandi potenze come la Francia e la Gran Bretagna erano all'epoca potenze coloniali e quindi rischiavano di poter essere accusate di genocidio culturale ma ci fu l'intervento del delegato che era siriano alle Nazioni Unite che disse ma noi non possiamo equiparare la distruzione di una biblioteca alla distruzione di un gruppo umano è ovvio che la risposta era poi ma le cose sono collegate perché non si distrugge mai una biblioteca così nel momento in cui si distrugge una biblioteca di un gruppo in una realtà è perché si sta poi cercando e spesso attuando anche la distruzione di quel gruppo però oggi è un uso che è presente sempre di più anche in giudizi della giustizia internazionale e in una serie di prese di posizione che hanno ampliato la possibilità di considerare genocidio culturale credo che sia difficile che possa essere usato come elemento del genocidio se non in presenza di una volontà di sterminio fisico anche del gruppo stesso per quello che riguarda l'Ucraina io credo che forse l'unico esempio in cui si potrebbe parlare di genocidio è il caso di Buccia che è analogo a quello di Srebrenica cioè quando un evento particolare ha avuto quel carattere genocidario così come i tribunali internazionali hanno detto in più occasioni che in Bosnia non c'è stato un genocidio ma a Srebrenica sì quindi separando i due elementi così direi che da parte della Russia di Putin sicuramente ci sono stati crimini di guerra e crimini contro l'umanità per quello che riguarda il genocidio forse quello è un caso particolare che però saranno poi le autorità a cercare di analizzare di più secondo lei quali sono i contesti più a rischio a livello mondiale anche magari quelli di cui si parla di meno a livello mediatico e poi quali sono gli strumenti concreti che si hanno oggi per prevenire dei genocidi se noi oggi guardiamo a quelle che sono le violenze che stanno accadendo nel mondo beh ci accorgiamo che quelle che sicuramente da un punto di vista numerico e spesso anche da un punto di vista poi della potenza distruttrice nei confronti di minoranze o di gruppi che avvengono oggi sono totalmente messe in silenzio rispetto ai due casi maggiori che abbiamo quello israelo-palestinese e quello russo-ucraino se noi pensiamo che negli ultimi mesi il numero di uccisi ogni giorno o in Siria o in Yemen era decine di volte superiore a quello che avveniva in Palestina capiamo che c'è una diversità di atteggiamento che rende estremamente complicato poter affrontare il tema della prevenzione dei genocidi perché mentre nei confronti di quello che sta accadendo in Medio Oriente adesso l'attenzione mediatica del mondo intero rende di fatto impossibile che si possa svolgere un genocidio perché ci sarebbero subito e ci sono tant'è vero che se ne parla prima che ci siano atti effettivamente di genocidio in atto negli altri casi non sappiamo se sta avvenendo o no perché non sappiamo se i gruppi che sono colpiti oggi in Siria nello Yemen o in altre parti del mondo pensiamo all'Africa e altre parti dell'Asia sono dei gruppi che rischiano davvero perché c'è questa logica geopolitica immediatica che ovviamente fa una sua forte distinzione ora per quello che riguarda la possibilità di prevenzione la prevenzione può esistere su due piani uno mettendo in evidenza i primi livelli di discriminazione che avviene nei confronti di qualche di qualche gruppo e questo però oggi avviene per lo meno in una cinquantina di paesi nei confronti dei quali però la comunità internazionale non ha gli strumenti o non vuole avere gli strumenti per far nulla l'altra è quella di poter intervenire nei momenti in cui la violenza diventa più forte e in cui l'intervento può essere possibile non solo per il genocidio ma anche per i crimini di guerra o per i crimini contro l'umanità ricordiamo quando in Siria che è stato negli ultimi anni uno dei luoghi con il numero maggiore di vittime l'idea dell'intervento era stato annunciato dal presidente Obama per esempio se si fosse superata la linea del uso ripetuto di un'arma letale e proibita come i gas e poi invece non se ne fece nulla continuando quindi ai massacri indiscriminati di civili e in più anche a lasciare alla Russia di Putin la possibilità di inserirsi in quella zona come potenza rilevante quindi di nuovo credo che questo vada ricondotto alla debolezza e difficoltà che oggi esiste a livello internazionale di garantire un equilibrio e un diritto che per quanto parziali nel corso della guerra fredda avevano avuto delle proprie regole grazie alle due superpotenze e che in questo secolo invece sono messe continuamente in discussione perché un nuovo mondo multipolare non ha ancora trovato le sue fondamenta dal punto di vista sia politico sia del diritto grazie a tutti Grazie.